La saletta cinematografica privata di Mel Gibson! Ehi, cos'è questo? Nell'anno 33 della nostra era... Il Messia... è sparito! Dove è andato? Tieni di parte! Cavolo, sei fuori, Gesù! Sei completamente fuori! Lo diceva anche la mia ex moglie! Per essere un figlio di Dio sei proprio un gran figlio di... Chris Tucker e Jim Casi... Cavie... Caviezel? Si legge così, quello del primo film? La passione di Cristo 2. Crocifiggi questo. Sai come si usa una di queste? E tu sai come si usa una di queste? A luglio. Lasciate che sia colui che è senza peccato a scagliare il primo calcio in culo. Oh mamma, ci mancava solo un'altra maratona di Mel Gibson su Gesù. Ma non sarà così se io riesco a metterci una pezza. Farò in modo che questo film non veda mai la luce del giorno.